Salve a tutti gli amici di TechDifferent, partiamo subito con l'unboxing della Rockbox Chunk Fabric Edition ovvero la cassa più grande che abbiamo di Fresh & Rebol, cassa wireless come possiamo vedere che si collega via bluetooth logicamente, molto ben rifinita, poi lo vedremo nel proseguo del video nella parte posteriore della confezione vediamo che fa anche da batteria esterna ora andiamo a rimuovere la parte superiore che va a proteggere ovviamente la cassa la vediamo rapidamente poi la vedremo nel proseguo di questo video vedete i gommini per appoggiarla e qui dietro le connessioni nella parte inferiore che andremo ora a rimuovere troveremo il cavo USB micro USB per la ricarica ovviamente dello speaker, il cavo AUX per collegarlo magari ad un altro speaker se lo avete anche un altro chunk e poi il manuale utente multilingua ovviamente c'è anche l'italiano che ci spiega in modo rapido come iniziare ad utilizzare questo speaker ora proseguiremo col vedere più da vicino questo speaker benissimo andiamo subito ad analizzare il tessuto come vedete la parte frontale nella parte laterale destra abbiamo questa etichetta in pelle con il logo Fresh & Rainbow molto molto elegante qui vedete la finitura molto bella davvero eccellente ora andremo a vedere l'altro lato eccolo qua ancora una volta il tessuto rilegato molto molto bene nella parte posteriore troviamo i led per indicazione della batteria tasto accensione e spegnimento, bluetooth, l'inserimento per la micro USB per la ricarica l'uscita USB, l'AUX per collegare un altro hotbox chunk e l'ingresso per le cuffie auricolari qui abbiamo i tasti a sfioro nella parte superiore per i comandi del volume play, pausa e avanzamento o ritorno indietro del brano direi un ottimo dispositivo vi rimando al nostro articolo per la recensione più dettagliata grazie a tutti Grazie.